signora guardi cosa c'è per lei gradina un condimento completo gradina è sana leggera tutta vegetale guardi quando si scioglie in tegame è limpida e pura come i purissimi oli vegetali che la compongono si gradina è sana e leggera perché è tutta vegetale faccia la prova sulla pasta asciutta è la prova più convincente che buona e se va bene sulla pasta asciutta gradina va bene per tutta la cucina e inviate questi sigilli a dbb milano regali